ben tornati ragazzi siamo qua su una nuova lampa di minecraft come potete vedere siamo su the aslan of junar l'ho conosciuta grazie a un altro youtuber che ha fatto un video su questa fantastica mappa si chiama stepney se non lo conoscete metterò il link della sua pagina in descrizione così da poterlo conoscere diciamo meglio e intanto noi prendiamo tutta questa roba qua melone abbiamo già il sistema non mi hanno fatto il cazzo ok possiamo andare qui c'è scritto bla 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 ci buttiamo comunque fantastico allora questo è l'inizio della nostra base no ma stavamo già per filare esplosa ok esplosa tutto perfetto allora urca direi ma perché cazzo vabbè allora ora direi di andare prima in cui l'isola tutto lassù quindi prendiamo la pala e iniziamo un po tipo che dovremmo avere tanti materiali perché diciamo anche se non ho letto la passo già che uno degli obiettivi di questa mappa è quello di collegare tutte le due quanto abbiamo rischiato e di collegare tutte le isole possibili immagini ma ce ne sono veramente troppe quindi non credo che faremo questa cosa poi c'è ma vaffanculo e la merda allora ce ne sono molti altri dbt ma va puttana schifosa ma credo che noi credo sia più divertente che invece di fare tutti i cazzo di obiettivi che ci sono con gli staminichi di mappa quello di fare cioè di fare di girare nelle varie nelle varie nelle varie isolotte che troviamo in giro per la mappa poi questo diciamo è un episodio è un primo episodio di questa mappa quindi decideremo dove cazzo andare bene poi in quelli futuri magari mi direte voi io vi darò delle opzioni voi decideremo in quale in quale slot preferite andare prima di tutto madonna schifosissima allora andiamo la shift ok ci sono già delle mappe le per mammi no non è possibile no non è possibile vabbè cose senza sensi tipo allora ancora un pochettino eccoli film quando mai non dovrebbe piovere allora siamo un po' qua che sennò magari non mi sentite cazzo abbastanza bene fantastico sicuramente qua sotto c'è qualcos'altro cazzo fa forza qualcosa qua non è che mettono queste cose così a caso no capo sei un coglione uoi dove vuoi andare ok non c'è niente io mi sento che moriremo molto presto in questi episodi che non so neanche da quanto registro che cazzo dire sono adesso vedo il riflesso vabbè vabbè dai lo faremo durare ancora 12 minuti dai sì allora dammi capire un po' ma fatevi capire quale cazzo dire sono sono i 7 e 9 6 e 6 e 8 7 e 8 mamma mia no 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 ma che cazzo bello ci siamo decisi abbiamo perso tutto tutto allora qui ti dicono i vari cosi qui c'è una cesta lo so lo so ma non abbiamo materiali e come cazzo facciamo come puttana Eva facciamo eh ma non possiamo morire già memoria fare e allora ci svegliamo eh grazie al cazzo vieni così allora fattiamo un po' di legno no l'abbiamo aspetta un attimo no ok non siamo ancora fattuti allora ora abbiamo perso tutto ci avremmo spade non spade dio schifoso allora torna su ma dimmi teo ma cristo ah bastardi che fanno i tre bocchetti per farci cadere ma noi stiamo attenti e non ci facciamo potter giusto legno perché il legno serve allora ah guarda volevo dire mettiamo mettiamo pintiamo gli albri che avevamo preso su ma l'abbiamo prontamente persi e quindi siamo con una merda più totale allora eventualmente faremo anche delle ceste appunto vediamo un cazzo allora legno serve un po' di legno in sto posto cazzo di merda perché se no l'ho preso sì tutta stacqua che mi sta sul cazzo già i coglioni allora ma che cazzo non può vaffanculo prosciugati schifosa merda ok molto bene allora ah ecco mi hanno consigliato di fare serie horror stile stile diciamo stile questi video che sto facendo da pochi giorni ovvero con che voi potete vedere anche la mia faccia ebbene sì ho appena scaricato lo farò lo farò ho appena scaricato un nuovo gioco gioco insomma un giocetto che molti man che molti che è già la seconda volta che mi consigliano di fare e pensavi che cadavano allora visto che qua c'è il coso non ci andiamo allora io non lo vi ho neanche detto per dormire no non esiste no ragazzi siamo fottutissimi siamo fottutissimi siamo veramente fottuti dove la ficchiamo prontamente cadremo di nuovo sicuramente perché tanto siamo fatti così allora legno della giungla fottutissimo perché hai fatto così va bene un piccone che ci servirà sicuramente nasce e poi oddio di fare una pala oddio oddio cos'è no 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 oddio oddio l'abbiamo colpito oddio da dove è arrivato oddio 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 guardarlo allora allora prendi un piccone mamma mia ragazzi no 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 allora dov'è quel fottutissimo pezzo di cacca no ragazzi no inizia già male questa no inizia già male non va un cazzo bene non va un cazzo dove è non c'era l'altro cosa di bene molto bene no 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 ragazzi prendilo ma non si ma che è morto è morto ragazzi perfetto perfetto la presenza gli ha fatto cambiare allora c'è stata veramente di culo che no dai che cazzo quanti ce ne sono ma che cazzo è sto non usciranno di qua vero vabbè rumori strani cazzo si fa già la gara per me sta merda di spada cazzuta andiamo a fare un po' i culi alla gente eh ora torniamo in là dove eravamo sto bel cazzo eh proprio sto cazzo no mi hanno visto mi hanno visto sono prontamente fottuto questa serie inizia già a piacermi mostri che cadono sotto la mia potenza oh eia ma quello c'ha no e che qui un colpo moriamo allora bisogna aspettare il cazzo no 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 lì non mi piace è fatto male no 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 ragazzi no 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 mi allora continuiamo a scavare noi prenderci blocchi su blocchi sta cazzo di bad rock ha rotto i coglioni qui in mezzo ai coglioni eh sta bad rock ha rotto i coglioni si si l'italiano perfettissimo di Stefano Patti ah no qui 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 no eh prontamente ttttt disegnerebbe andare quella merda di coso e farci qualche torcia ma ovviamente noi non abbiamo un emirito cazzo un enderpeg vai a prenderla enderpeg è anche veloce oh fantastico possiamo giù teletrasportarci allora se cosa facciamo adesso ci facciamo le cazzo le fottute barriere perché se no qua cadiamo di sotto e non ci va ok magnifico ora se magari diventasse giorno ho sentito un ruolo strano niente da quando diciamo ho conosciuto sta merda di serie non riesco più a giocare a un cazzo è proprio allucinante mi sta portando via un sacco di tempo sto Minecraft cioè per farvi capire quanto sto giocando l'altra sera l'altra volta mia madre mi sveglia al mattino e io la vedo a pixel fatevi un po' i conti vedere una persona a pixel dopo aver giocato a Minecraft non è un buon segno cioè capite quanto è grave la cosa ci chiamiamo di entrare nel portare del land perché se no un cazzo allora noi prontamente non abbiamo un cazzo di niente un creep dov'è no c'era l'ho visto non sono diventato deficiente l'avete visto anche voi sono sicuro perché ci sono ender che si materializzano sulla nostra fottuta isola ah io ero un coglione perché spaccavo abbiamo fatto una pala e spaccavo qua a mano fantastico fantastico allora qui poi faremo una piccola piantagione che cazzo noi proviamo ad andare qui non mi piace sta cosa come è fatto allora adesso noi ci gonferiamo quanto abbiamo rischiato ciao creeper allora no no esplode quanto abbiamo rischiato voi non potete capire allora ciao creeper adesso ti faccio esplodere pezzo di cacco no ma qui c'è 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 il tuo ovunque no dai dai cos'è cos'è allora cerchiamo di non morire come è successo l'ultima volta mamma mia stiamo rischiando veramente troppo ma ero arrivato fin qua io o vabbè meglio allora pala e risaliamo ora spada cazzuata oddio no 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 scusate materiale materiale oh finalmente la pioggia quanto quanto odio oddio no 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 mettiti la spada mettiti la spada no 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 non possiamo morire non possiamo morire schifoso pezzo di merda ma c'è gente ovunque no 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 fotti questo veloce veloce no cos'è no gente strana che cammina allora ok abbiamo una piccola mini barriera abbiamo una porta fantastico abbiamo una porta e ora affrontiamo anche un po' di legno perché sta diventando giorno fantastico da quant'è che stiamo registrando ok diciamo che per il primo episodio può può finire qua e a cosa cazzo serve sta porta tanto ormai non c'è più niente qua oh fantastico allora finisco di prendere sta roba qua zappa si serve e noi ci rivediamo prendiamo questa cesta prendiamo questa cesta e ci ripartiamo di l'altra parte non ci andiamo a ficcare tutta sta roba e niente ragazzi per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video bye bye ragazzi ciao